Per la prima volta nel campionato di Serie A il 16 maggio 1976 fu questo gol di Renato Curri realizzato al 55esimo tiro a volo di destro su cross di Novellino a consegnare la vittoria ai Grifoni. Secondo incontro il 17 aprile 1977 finì 1 a 1 al 19esimo gol di Franco Causio e pareggio di Franco Vannini al 31esimo. Seguirono poi 2-0 a 0 in quello del 30 ottobre 1977 Renato Curri fu stroncato da un infarto in una partita disputata sotto un diluvio universale.